Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Allora, noi stiamo rappresentando uno spettacolo, il titolo è Futura, nasce da un'idea di proporre un progetto che si dovrà formare, cioè la vita, la vita che verrà. Questo da qui nasce il titolo del nostro spettacolo. Lo spettacolo è incentrato sul concetto del femminicidio, dove noi creiamo un arco narrativo nella quale vediamo lo svilupparsi di tutte le metodologie psicologiche e, ahimè, familiari, sociali, che poi sfociano nel femminicidio. In realtà sono tutte parti principali perché è composto di una serie di singoli elementi, di singoli partecipazioni, proprio per dare modo di vedere, innanzitutto la prima parte che riguarda l'indifferenza di chi è intorno, nella seconda parte la zona grottesca, cioè di quelle persone che si adagiano a stare l'uno con l'altro per forza di cose, per necessità, e quindi già da lì nasce un rapporto, diciamo, malato. E nel terzo, nel terzo blocco, invece, vediamo proprio le dinamiche che sfociano sia nella morte dell'amore in una situazione che nell'arta, quasi nella morte fisica. Un messaggio, intanto saluto tutti i vostri radioascoltatori, ovviamente, e venite a teatro, sempre e comunque, che è come andare ai concerti, vedere gli attori live, è sempre bello, insomma. Un messaggio, intanto saluto tutti i vostri radioascoltatori, ovviamente, e venite a teatro, sempre 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 a teatro.